Tutti i giorni noi acconsentiamo a mettere da parte le nostre differenze, così che insieme possiamo forgiare un mondo più umano. Non posso abbandonare le mie differenze, il mondo non me lo permette. E anche in caso contrario non lo farei, non oggi. Non oggi. Cosa fai? Dove stai andando? Maya, devi restare qui dove posso proteggerti dal mondo e da te stesso. Tu sei un uomo di grande talento e intelletto, ma finché non ammetterai l'ira che provi per l'abbandono dei tuoi, motivo per cui sei omosessuale, per ferire loro e te stesso, tu non sarai mai davvero completo, hai capito? Né come uomo, né come aspirante salvatore del mondo. Signor Masti, signore, è mai stato in una chiesa di neri? Innumerevoli volte. Da qua che ero non avevo mai visto niente del genere. I batti mani, i canti, le urla. Sembrava l'esaltazione dell'ira. Quindi invece di restare qui a dire cose di cui mi pentirei, io me ne vado via. E questa domenica che viene, andrò in chiesa.